amici di newsf1.it buonasera e benvenuti a questa edizione serale extra edizione straordinaria di Paddock News a ruota libera è qui con noi nel nostro bar virtuale Marco Asfalto buonasera Marco buonasera a tutti il nostro avventore insieme a me del nostro bar e c'è con noi un avventore un ospite d'eccezione che non ha bisogno di presentazione lo dico sempre ma lo presentiamo l'ingegnerissimo Luigi Mazzola buonasera ingegnere buonasera a tutti ben ritrovati allora piacere darli darti a questo punto tanto visto che il tono è colloquiale da barra ci diamo del tutto tanto un po' di conoscenza ormai c'è ce l'abbiamo tra di noi ce l'abbiamo appurata e quindi niente benvenuto in trasmissione eh iniziamo subito con qualche curiosità qualche domandina stagione di Formula uno che è iniziata bene col botto per per le Ferrari chiaramente eh ho visto anche un tuo post su Gedda dove mi sei sembrato molto soddisfatto anche del livello tecnico raggiunto da questo Formula uno per lo spettacolo che riescono a dare finalmente con macchine scia belle sportellate ancora eh fortunatamente tutte nella norma insomma all'interno del fair play eh più o meno arriveranno arriveranno cioè è presto ancora c'è tempo ancora venti gare venti gare venti uno gare tu da da tecnico dovendo dare un giudizio tecnico la promuovi questa nuova linea dell'F1 questa nuova era aerodinamica questo nuovo regolamento tecnico eh promuovo lo spettacolo mh questo sì ok il risultato finale eh eh alla fine non è questa grande se vogliamo questa grande differenza rispetto all'anno scorso che abbiamo finito con il duello Verstappen eh Hamilton che se le davano di santa ragione ma lì c'erano certi motivi per cui se le davano e si è iniziato per fortuna eh con una Ferrari eh che se le dà di santa ragione insieme a Leclerc con Max Verstappen quindi diciamo da quel punto di vista alla fine non è cambiato molto se non quello che la Ferrari è là davanti ecco questo è un bel salto cioè questo ci fa piacere da punto di vista sportivo diciamo ecco la scia certamente si sono visti anche tanti sorpassi di dietro oltre che no anzi la regia si è proprio focalizzata molto su quello che erano le retrovie quindi questo è un è un decisamente un passo in avanti no questo dal punto di vista tecnico eh il fatto che la scia sia meno sia meno sia meno così importante chiaro che poi si fa sentire meno in rettilineo e quindi quasi quasi accentua la necessità del DRS perché perché poi se c'è meno scia effetto scia in curva ce lo è anche in rettilineo eh dal punto di vista macchine eh no non sono tanto soddisfatto da dire dal punto di vista tecnico ma anche troppo pesanti i piloti fanno difficoltà eh anche a capirle a spingere al limite ancora fanno fatica a interpretare bene la la il limite il limite specialmente in frenata delle macchine quindi li vedo un po li vedo ancora un po cautelosi sulle 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 frenate no tranquilli e diciamo che il goal di avere più avere meno effetto scia sì il goal di avere le macchine più ravvicinate in termini di gap tra tra di loro no perché poi alla fine se uno va a vedere la classifica e va a vedere i distacchi è una fotocopia cambiando certi parametri soprattutto tirando via la Mercedes finalmente e mettendoci la Ferrari finalmente la davanti e si vede insomma più o meno sempre la stessa cosa Marco lascio a te la parola beh proprio a proposito di questo nuovo regolamento tecnico ero curioso di fare eh di farti Luigi una domanda sul comportamento delle nuove vetture secondo te eh sul bagnato perché noi adesso chiaramente ancora non abbiamo viste questo anche in relazione al fatto che avranno queste hanno queste come da diciotto pollici cioè secondo te eh queste macchine a parte che chiaramente l'acqua viene smaltita dalle gomme come vorranno comportarsi e i piloti potranno essere preparati a fare delle gare sul bagnato abbastanza spinte? Secondo me ancora no hanno fatto dei test sul bagnato ma poi li voglio vedere sul campo quando piove per davvero in gran premio le macchine sono differenti secondo me nel bagnato le gomme dovranno evacuare quella quantità per evitare quantità di acqua per evitare il l'acqua planning. Macchine più pesante e meno carico dovuto agli alettoni e più carico dovuto al fondo. Ora eh questo ha una sua ha una sua implicazione. Vi ricordo questo. Se avrete negli alettoni posteriori già da tempi memorabili si metteva per avere più carico e si mette ancora a certe volte per avere più carico un olderino si un olderino proprio nel profilo superiore, nella parte superiore dell'alettone forse. Un olderino da 3 millimetri o da 5 millimetri che sembrano veramente niente. In realtà avevano una forte eh diciamo influenza in frenata e in accelerazione, in trazione nel lento e le curva lenta. Quindi la frenata ha un approccio alla curva lenta e in attrazione all'uscita di una curva lenta. Ora vuol dire che l'ala posteriore in qualche modo ha un effetto o quindi anche l'ala anteriore perché devi comunque bilanciarla ehm ha un effetto molto importante nel lento. Questo è quello che secondo me in qualche modo uno dei punti della Mercedes, uno dei punti diciamo dolenti della Mercedes. Nel bagnato è quello mi serve perché più di tanto dal fondo cosa vuoi? Vai nettamente più piano quindi nell'effetto Venturi è in qualche modo eh relativamente parlando più limitato e quindi le macchine saranno difficili tra l'altro anche più pesanti. Speriamo che le gomme compensino un po' tutto questo però le voglio vedere. Sarà interessante vedere come come si comportano. Esatto. Esatto. Senti prima hai parlato di togliere dall'equazione meno Mercedes più Ferrari fortunatamente in entrambi i casi. Tu che hai passato una vita in Ferrari oltre a essere chiaramente tifoso e contento per la per la situazione che stiamo vivendo ha lavorato bene Ferrari? Domanda un po' alla Marzullo dai. Ha lavorato bene Ferrari eh ha lavorato bene o ha lavorato meglio degli altri che è diverso in realtà. Ha interpretato meglio il regolamento. Allora partiamo da questo presupposto. La Ferrari l'anno scorso non doveva competere per il mondiale e mentre Mercedes e Red Bull sì. Ok? Quindi dichiaratamente da parte di Ferrari hanno detto o avevano detto che il 2021 è stato un anno per eh più che altro dedicato alla macchina del 2022. Ora Mercedes e Red Bull purtroppo per loro o questo magari eh è stato inferiore perché dovevano competere fino all'ultimo giro dell'ultimo gran premio per cercare di portare avanti anche lo sviluppo. Quindi da questo punto di vista è stato un un leggero vantaggio da parte della Ferrari. Ora l'interpretazione del regolamento direi che la Ferrari ha lavorato straordinariamente bene perché poi alla fine si è presentato con una macchina che probabilmente non è sovrappeso poi ha un bilancio straordinario a carico sia nel lento che nel veloce e anche la velocità di punta poi non è così diciamo malvagia. È chiaro che se una Red Bull va con degli assetti molto scarichi per per scelta è ovvio che poi la velocità si fa sentire no? Cioè quindi sono assetti quelli quindi sono diciamo interpretazioni dell'assetto per quel circuito per quelle per quelle condizioni non è tanto la filosofia della vettura ma la filosofia aerodinamica. Però io direi a livello di boy distribution a livello di aerodinamica centro di pressione quindi di bilancio a livello di pesi e di meccanica perché è stata molto più semplice adesso la meccanica rispetto a quella che era gli anni precedenti le sospensioni sono molto più banali. Io direi che ha fatto uno straordinario lavoro da quel punto di vista quindi non gli si può cioè non penso che si possa dire anzi non lo voglio proprio dire non si può non si può pensare che ha lavorato peggio gli altri e quindi meglio la Ferrari. No io penso che abbiano lavorato bene. Perfetto. Marco? Sì io dunque volevo un attimo arrivare al prossimo gran impegno. Il circuito dell'Albert Park è stato completamente cioè completamente no stravolto però quasi innanzitutto sono state allargate delle curve è diventato molto più veloce e ci saranno addirittura quattro zone di RS. Qui si va sempre nella direzione di voler facilitare i sorpassi visto che le macchine hanno quel vantaggio inferiore in scia. Tu che ne pensi Luigi? Cioè com'è questa scelta? A parte la sicurezza che su una curva insomma c'erano stati sempre incidenti. Scusate vi interrompo credo sia l'unico tra l'altro nel mondiale con quattro zone di RS. Di solito ce ne sono due al massimo tre questo quattro. Fino ad ora sì se non cambiano qualcosa se ne altre viste. Voglio essere cattivo vogliamo essere cattivi? Sì certo. Diamo una mano alla Mercedes. Diamo una mano alla Mercedes. Allora quattro zone di RS è un po' quello che c'era una volta no? Una volta non c'era il DRS una volta c'è no scusate la volta c'era 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 il DRS ma non era limitato nelle zone era libero no? Vi ricordate? Esatto. Eh si poteva usare in tutti i rettilinei. Lì ha giù secondi su secondi perché sai si fa sentire eh cioè è come guadagnare efficienza gratis no? Quindi erano tre quattro decimi se non di più a rettilineo quindi voglio dire se si contavano cinque quattro cinque sei rettiline ma anche brevi venivano fuori dei secondi. Ora è chiaro che si vuole rendere più veloce no? Il tutto. Magari è stata anche un'idea per cercare di velocizzare le macchine in quel circuito. Eh quindi da quel punto di vista lì potrebbe anche essere la metto lì. Cos'è? Cioè posso anche pensare che sia una scelta politica per cercare di rendere le macchine più veloci. Dare più possibilità eh ai sorpassi. Dare più dare più spettacolo e via. Eh chi potrebbe facere diciamo favorire? Beh certamente chi ha mancanza. Una senza pance. Eh chi ha mancanza di efficienza quindi quello gli va da la mano perché allora mette più ala però dopo mette più ala posteriore perché così almeno prende carico quindi bilanciato col quanto dell'anteriore e poi dopo c'è il DRS che ci pensa a scaricare no? E a trovare efficienza. Quindi è una mossa un po' vogliamo dirla un po' ehm un po' che potrebbe andare a sfavore della Ferrari no? Perché è quella migliore come come interpretazione di tutto no? Come compromesso. Dopodiché Alper eh cioè il Melbourne non è banale come circuito quindi una macchina come Ferrari lì potrebbe andare veramente forte perché è un insieme di cose. Un insieme di chicane. Ci serve ritmo, serve bilancio. Eh ci sono anche curve lente. Quindi trazione eh frenata. Quindi secondo me potrebbe dire la sua certamente la Ferrari è la grande. Ah Marco come al solito mi hai servito un assist involontario perché tanto da tra avventori ci si intende. Albert Park eh ai ai nostri tempi era una volta la prima gara del mondiale no? E chi vinceva lì eh chi cominciava bene, chi vinceva o chi si proponeva comunque per per battagliare voleva dire che aveva azzeccato non non si vince mai a caso alla prima a meno che non succede qualche qualche disastro chiaramente per cui chi vinceva lì eh poteva candidarsi giustamente per una stagione di successo. L'ultima volta della Ferrari è stato illusorio perché nel diciotto e diciannove nel diciotto e diciannove vinse Vettel dando in là quella che sembrava potesse essere una vittoria non è stata. L'ultima prima di lui Luigi è stata con te con Kimi nel duemila e sette. Quello sì che è stato l'anno buono l'ultimo purtroppo. Eh però appunto oggi arriva come terza terza prova terza tappa del mondiale cattivi vogliamo essere cattivi come Roma per essere cattivi siamo cattivi potrebbe essere l'ultima chiamata o l'ultima spiaggia per qualcuno se canna l'ennesimo gran premio e arriva lontano da dai top. È vero che mancano ancora venti gare quando finirà il gran premio in Australia però cominciano a essere tantini insomma forse sempre sempre senza far nomi eh. No no non facciamo no no no. Allora sostituisci l'Australia con il Bahrain. Ok? Cioè quindi hai vinto in Bahrain e sei stato forte in Bahrain. È come se sei stato forte in Australia negli anni passati. Cioè il primo gran premio è quello che se ti presenti bene eh già stai a sorridere. Già sorridi. Ok? Perché ti sei già presentato bene. Eh ai miei tempi mh te lo dico perché i numeri perché li ho vissuti. Tu per poter competere a vincere un mondiale dovevi arrivare al primo gran premio che eri là. Ok? Eri già lì competitivo per vincere. Poi dovevi mantenere uno sviluppo della macchina chiaramente. Quindi la macchina dell'ultimo gran premio di quella stagione rispetto alla macchina del primo gran premio della stagione. Eh ci poteva essere un seconde passa di differenza per lo sviluppo. Perché gli altri migliorano e tu se non migliori va relativamente parlando peggiori. E quindi devi mantenere sempre il lo sviluppo. Mantenere sempre un aumento di prestazione durante l'anno. Ora ci sono stati due gran premio una attaccata l'altro. Poi c'è questo qui e che è sempre distante e via. Chiaramente quando si arriva in Europa bisognerà avere una macchina già migliore rispetto a livello di sviluppo. Quindi quindi per rispondere alla tua domanda parti bene. Quindi Ferrari Red poi ha rotto. Quindi chiaramente ha perso dei punti ma quello ci sta. Cioè voglio dire nell'arco di tutto il campionato ci sta che rompi. Quindi ci sono già giocati al jolly. Cioè sostanzialmente la red. Quindi no. Poi il secondo gran premio lo vinci e comunque fai i punti. Sei nei primi quattro e vi andare al primo e quarto. E allora questi due team sono partiti alla stragrande. No? Cioè quindi e via. Ma quell'altro invece è partito un po' peggio. Cioè ha preso un po' di punti grazie all'uscita della red. But al primo gran premio. Al secondo quando tutto era ok. No? Sei stato lì dietro. Ora e può competere per vincere. è già partita male. Cioè già fa fatica. Pronte via. Cioè quindi è una delle condizioni. Dopodiché se durante l'anno questi fanno un miglioramento di due secondi. È chiaro che ritornano. Però ha già perso abbastanza. Quindi quello che adesso Ferrari soprattutto deve fare è capitalizzare il più possibile. Perché nei primi tre gran premi dove ce n'hai uno attaccato all'altro e l'altro è a Melbourne. Devi capitalizzare. Quindi devi essere sul podio e vincere. Vincere. Perché la Ferrari ha una macchina per vincere. E quindi deve vincere. Perché gli altri poi potrebbero in qualche modo essere bravi nello sviluppo. Quindi in questo momento è chiaro che capitalizzeranno. Possono capitalizzare quei due team lì. La Mercedes non penso che potrà fare più di tanto. I 4DRS magari arrivano. Ma se parlo, se sento di peso. Quindi macchine sovrappese. Come fai a fare in tre gran premi? Cioè in un mese neanche arrivare con una macchina con pezzi diversi, no? Materialmente sistematico. Cioè proprio di sistema non gliela fa. Gliela arrivi quando sarà in Europa probabilmente. Quindi si targettano lì per avere una macchina che sia in peso con un carico aerodinamico diverso. Quindi un aerodinamico diverso. Quindi non mi aspetto che a Melbourne siano così veloci. E quindi però nello stesso tempo non direi che si possono chiamare fuori totalmente. Specialmente se diciamo anche se gli altri potessero, possono in qualche modo capitalizzare. E' troppo lunga la cosa. E' troppo lungo. No? Quindi però non ti aspettare. Almeno io non mi aspetto che la Mercedes sia competitiva lì. E non dico che è finita. Certo che per competere e per vince devi partire subito altri. Quindi difficile. Partendo così, se quelli davanti a te che sono partiti a razzo non fanno qualche cappellata strada facendo, è difficile. Le puoi vincere anche tutte, ma poi è difficile che riesci. Domanda secca. Ci sta che quei due cominciano a non essere così belli, no? Sportivi e simpatici. Hanno lottato con sportività. La sportività nel mondo della Formula 1. Non esiste. Ma non esiste neanche se vuoi. È chiaro che c'è una correttezza. Questo sì. Ma ma di che? Ma di che stava parlando? Quelli voglio vincere. Sì. Ma di che? Se no stavano lì. Marco ti passo subito la parola. Una domanda secca, risposta secca. Visto che insomma sto progetto senza panci e non sembrano stia dando risultati concreti. Pensi, puoi anche solo immaginare che questi in Europa si ripresentano con la vecchia monoposto, vecchia intesa, quella dei primi test in Bahrain? O insistono? So decoccio come diciamo. Beh questa è una domanda per Luigi però sì, io penso proprio di no. Ma il mio, la domanda che era che volevo fare era proprio questa, quindi ci siamo già arrivati nel discorso. Ora siccome i miracoli in Formula 1 non se ne fanno e questo ormai penso che l'ho ascoltato da tutti i tecnici possibili negli ultimi trent'anni in cui la seguo, è possibile veramente recuperare un perché attualmente al dunque la Gran Premiera d'Arabbia la Mercedes aveva un gap di un secondo a giro rispetto alla vetta della classifica. Quindi Russell al diciassettesimo giro era staccato di circa diciassette secondi più o meno adesso. Eh io quello che che mi chiedo è se a un certo punto trovano la quadra è veramente possibile recuperare un secondo soprattutto nelle prossime diciamo quattro gare perché io penso che qua a metà campionato i giochi sono fatti. Tra le altre cose la Red Bull sviluppa sempre molto bene le vetture e poi anche in estate soprattutto questo c'è un discorso storico loro che poi si ripresentano sempre dopo l'apertura eh dunque dopo la chiusura estiva sempre in grande forma e questo mi chiedo sarà poi possibile perché non vorrei che eh diciamo si andasse a fare qualcosa che magari non sia proprio diciamo nelle linee guida della federazione. Questa è la domanda la rivolgo a te Luigi. Proprio tecnicamente un secondo. Allora. Da recuperare. No eh è difficile cioè molto difficile un secondo da recuperare considerando che gli altri migliorano perché io mi aspetto per la Ferrari migliori e che la Red Bull migliori quindi quello è non sarà più un secondo ma pure quell'altro che devo aggiungere in delta che gli altri migliorano. Dipende dalla ehm della tipologia del problema no? Hanno sempre detto che la macchina aveva molta potenzialità no? Questo. Però difficile poi da scaricare a terra la sua potenzialità. Ora se ti presenti con dieci chili sovrappeso quindi perdi tredesimi tredesimo e mezzo al giro cioè dieci chili di sovrappeso dura eh cioè veramente dura cioè non è così banale arriverai con un certo pacchetto tale verso un certo momento della metà stagione ma dieci chili non tanti. È più un progetto a lungo termine che a breve termine. Devi toccare il motore, devi toccare il cambio, devi toccare i accessori, il cooling, cioè il peso, il peso è materia quindi questo è il primo. Se è un accordo tra diciamo l'aerodinamica che non per qualsiasi motivo non sta funzionando e anche il bouncing, il proposing che hanno loro che è abbastanza evidente, potrebbe essere anche un elemento e riescono a trovare fuori la quadra da quel punto di vista lì. È chiaro che potrebbero fare un salto più repentino perché ho come l'impressione che abbiano un problema da quel punto di vista lì. Quindi potrebbe essere che loro possano in qualche modo in quell'area fare un salto che normalmente non si fa perché hanno un problema proprio di carattere aerodinamica. Dopodiché il motore. Ora il motore, tutti i motori Mercedes per qualsiasi motivo stanno arrancando. Ora va bene tutto, va bene il bio, va bene tutto questo, però non lo so, cioè sinceramente a me nella mia testa poi sbaglierò, è una diciamo una supposizione, non è certamente una una verità perché non posso conoscere la verità, però come l'impressione che questo nuovo regolamento abbia toccato un'area, perché sono state toccate diverse aree, tale per cui per qualsiasi motivo loro non possano fare quello che potevano fare negli anni precedenti. Ma non è che è una cosa illegale o legale, no, non sto dicendo quello, sto dicendo che per qualsiasi motivo non riescono a poter, ad avere quella potenza che avevano, impianto benzina, tutto quello che è, visto che l'impianto benzina è stato toccato, non lo so, perché questa impressione, perché se fosse solo Mercedes, allora poi sarei, boh, hanno scazzato la, diciamo, la progetto, la macchina non è efficiente, poi non c'ha manco le pance, cioè vuoi dire, cioè in teoria dovresti essere, dovresti essere, la forma dovrebbe essere nella direzione di avere meno resistenza all'aria, però pure gli arti fanno una fatica, orca miseria, quindi Masak è proprio il motore che, allora ci mettiamo il motore che, poi ci mettiamo il peso, se è anche vero che il peso è il sovrappeso, sono elementi abbastanza duri da combiare in breve tempo. Sull'aerodinamica qualcosa possono fare, l'elemento più rapido per cambiare qualche cosa, personalmente se hai un problema e quindi cerchi di risolverlo. Chiaro che se invece la dinamica fosse bella tranquilla, cioè la macchina fosse bilanciata, ma non vai e allora sarebbe un grosso problema anche dal punto di vista aerodinamico, perché devi rivedere l'efficienza, devi rivedere il carico, quindi invece mi sembra che la macchina sia instabile, il pilota fa sempre difficile, fanno errori, perdono l'ingresso, perdono a metà curva, perdono in uscita e quindi che stanno sempre a remare e quindi evidentemente la macchina ha qualche situazione problematica e allora a quel punto puoi fare un salto repentino. Però generalmente parlando, se guardiamo tutto insieme, per me fanno fatica a recuperare un secondo. Luigi, un'ultima domanda tecnica, visto che rimaniamo in tema Albert Park, hai parlato proprio di proposing, di Mercedes, di problemi, di fondo, magari in tanti non lo sanno, non se lo ricordano, l'Albert Park è un circuito cittadino, per quanto di cittadino non ha assolutamente nulla e nessuno direbbe forse qualche striscia di autobus che si vede ogni tanto e di qualche parcheggio te lo può far sembrare un cittadino. Mal si sposa, come tutti i cittadini, con magari, proprio per la Mercedes, con un assetto volutamente rigido all'anteriore e al posteriore per mantenere questo benedetto, per evitare questo benedetto effetto proposing, quindi come diciamo a Roma, tanto siamo al bar, non ti scandalizzi, anzi, visto i tuoi passati romani, li troverai su un tettovaggio. Sospensione rigida al posteriore, so cazzi interazione, superiore rigida all'anteriore, so cazzi col sottosterzo, e poi i cordoli lì vanno attaccati, specie su curva 10 e 11, lì 11 e 12, anzi, che è veramente tosta, quindi aggiungono problemi al problema se non trovano la quadra per fermarlo. Sì, sì, quello sarà un problema un po' per tutti, perché comunque il circuito cittadino, bumping, scordoli, un po' tutti ce l'hanno, poi è chiaro che la Mercedes ce l'ha un pelo di più rispetto agli altri, però io ho visto anche la Ferrari che saltava, ho visto anche altre macchine che saltavano, ma è chiaro che è un compromesso, non tutto, certo, cioè tu puoi andare rigido, devi andare rigido con queste macchine, dal punto di vista aerodinamico, ma poi arrivi in certe situazioni di compromesso che se sono gli ingegneri sono bravi e riescono a lavorare considerando l'intera, l'interessa della macchina, il compromesso della macchina, magari la macchina la alzi e ammorbidisci e quindi cerchi di avere un compromesso. Io mi ricorderò sempre a Adelaide e c'era, io giravo, parliamo del 91, giravo con, avevo Morbidelli perché la Ferrari l'aveva licenziato, abbiamo fatto pure questo, abbiamo licenziato. Non cevamo manca niente. Non cevamo manca niente e quindi siamo andati lì con Morbidelli e poi c'era Gianna Lesi. Gianna Lesi era molto guidato all'epoca da Jean-Claude Mijot. C'era Mijot come nostro, diciamo, riferimento tecnico, aerodinamico ma anche, diciamo, riferimento tecnico. Mentre con Alain, fino a quel momento, ho sempre lavorato io, no? Su Alain. Quando siamo arrivati ad Adelaide, cioè, scusa, ad Adelaide, cioè, tu vuoi vedere, c'erano i tombini, c'erano dei cordoli che erano di marciapiedi. È chiaro che Jean-Claude aveva questa mentalità giusta, quella di cercare il massimo dell'efficienza, quindi cercare di mettere la macchina bassa. C'era la 643 dove si poteva, no? Era stata fatta, disegnata in modo tale da poter andare molto bassi davanti. Molto bassi davanti, molto rigidi davanti. E quindi una macchina settata soprattutto per ottenere il massimo carico e la massima, la massima, diciamo, efficienza. Ora, se vai in un circuito di quel genere, fai fatica. Quindi io ho preso un tutt'altro approccio. Quindi andai, bah, mi gioco l'efficienza, mi gioco un po' il carico, però do una macchina guidabile perché altrimenti è difficile. Poi specialmente perché hai Gianni Morbidelli che iniziava, cioè, voglio dire, non è che prendi sale, sale in macchina e via. E il venerdì certamente andava più forte Gianni. E quindi si era un po' rivisto la cosa e con Alessi, mi ricordo, si mise da colse, dammi una mano e guarda l'assetto di cosa e cerca di arrivare lì. E infatti cambiò perché il suo grande problema erano i salti, erano in frenata, erano i cordoli. Cambiò il tutto e ritornò a essere lo Gianna di Zicche veloce che conoscevamo. Quindi ecco, qui nasce un bel discorso. E il discorso è macchina, ok, poi vai in pista e la macchina deve essere assettata per le condizioni e le caratteristiche della pista. Che allora usciamo fuori dal concetto, diciamo filosofia di macchina, è una filosofia di macchina che in qualche modo si deve sposare con la tipicità del circuito. E allora lì ci vuole un minimo di esperienza e di fiuto da parte degli ingegneri di capire effettivamente che possono compromettere certe situazioni per favorire delle altre. E in certi circuiti favorire delle altre è, diciamo, meglio rispetto che a compromettere altre. Cioè si guadagna di più a compromettere piuttosto che a stare fissi su quello che l'aerodinamica domanda. Quindi quello potrebbe essere uno dei circuiti, così come ce ne saranno degli altri, quindi che arriva. E allora sta lì alla monta degli ingegneri. E lì ci potrebbe essere anche qualche sorpresa. Consideriamo che sono tutti ingegneri abbastanza giovani, molte volte, con esperienza limitata, ma non limitata perché non hanno competenza, perché non hanno i test. Cioè una volta si girava dalla mattina alla sera tutti i giorni, no? E quindi tu avevi sempre, avevi sempre una marea di esperienza che nasceva dai test. Poi andavi in Gran Premio e te la tenevi quell'esperienza. E quindi sapevi, no? Molte volte, vedete, si sbaglia anche quando si deve mettere all'intermedia o la full reign, oppure passare alla slick. Perché? Perché non hai situazioni dove tu hai affrontato quelle cose durante i test. Non è un background storico. E vai, esatto. E puoi fare degli errori banalissimi, no? Ecco, questo è una di quelle cose che potrebbe capitare con una macchina totalmente diversa rispetto a quello dell'anno precedente. E questo potrebbe essere. Quindi il fatto che sei una macchina rigida e vai e non puoi prendere un coto, ti devi venire un attimo. Aspetta un attimo, fammi fare un run con una macchina più alta. E ammorbidiamo un po'. 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 Cioè, ti devi venire. Ora, il free practice c'è un'oretta e ti fermi. Poi c'è un'altra, c'è un'altra, c'è un'altra oretta. E non puoi sempre usare gomme, cioè, per fare il back to back, non c'hai una quantità di gomme da dire. Quindi... E' il long run che fai, non lo fai? E' che non lo voglio fare. E quindi servirà a fare il long run. E quindi tu sei lì che cerchi. Allora cosa succede? Che parti da casa, o parti giovedì che definisci un assetto grazie ai simulatori, grazie a, no, a tutto ciò che ti viene, che ti cerca in qualche modo, o cerca nel vero senso di la parola, di, di, di compensare, no, l'esperienza, ma poi alla fine non gliela fai. E quindi il primo che c'ha un barlume, un'idea brillante, potrebbe fare la differenza. Poi la pista è stata riasfaltata. Sì, è vero. Però non so, non so se tutto è solo il tratto del nuovo layout. Vedremo, guarda, cioè, in pochi giorni ci divertiremo. Domani che mattina stavamo lì sul divano tutti quanti, sicuramente. Anche qualifiche. Anche qualifiche, certo. Ma sì, quest'anno me le guardo, perché dai... È buon segno. Ma sì, vedere, vedere la Ferrari là davanti, competere, poi, cioè, a me piace Leclerc, cioè, per certi versi lo preferisco a Sainz, anche se Sainz è un ottimo pilota. Signor pilota. Però, per qualsiasi motivo, mi piace di più, mi sembra più rispante, come pilota, più talentoso. Più sanguigno. Esatto. E quindi, sai, vedersi ancora una bella qualifica, no, dove quello perché lui è un pullman. Magari all'ultimo giro te sparano, è buona di quelli di quelli fatti bene, non me lo voglio perdere, no. Giusto. Luigi, noi, niente, parleremo per un'altra mezz'ora, un'altra ora, però ti abbiamo tediato abbastanza, quindi ti ringraziamo per essere stato con noi, è sempre un immenso piacere. Grazie a voi, ragazzi. Grazie, Marco, per averci fatto compagnia, per averci fatto compagnia a tutti e due. E ricordo a tutti quanti che potete seguirci su newsf1.it, su Facebook, Instagram e ovviamente YouTube. Iscrivetevi, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Di nuovo, grazie a tutti, grazie agli ospiti, grazie a Marco e buona cena a tutti. Buona serata, buona cena, buon tutto. Buona serata.